sono lieto di comunicare che venerdì 24 giugno 2022 alle ore 9 a barletta si terrà la conferenza stampa della presentazione del film stalking sconfiggerlo si può a tale conferenza stampa saranno presenti oltre a politici e anche gli studenti della carta stampata tv locali e parteciperanno il direttore artistico ideatore e produttore antonio cirillo il criminologo dottor antonio russo autore del libro stalking sconfiggerlo si può il sottoscritto in qualità di editore dei guaderni del bardo edizioni il regista del film massimiliano tedeschi con questo film si vuole dare un forte segnale a tutte le donne che vivono in questa angosciosa realtà sperando di poterlo sconfiggere con l'aiuto dei politici e dello stato dopo il film ci sarà un dibattito alla presenza di alcune donne vittime di violenza